Il governo ha virato a sud, almeno secondo il ministro dell'interno Angelino Alfano, che ha commentato in Senato le ultime iniziative dell'esecutivo Renzi, dall'apertura, anche se la stricata di premesse, seguita dalla marcia indietro di Del Rio, del presidente del Consiglio sul Ponte e sullo Stretto, alla scommessa dell'alta velocità, fino alle scelte che riguardano la detta stazione a favore delle imprese che assumono al sud. E se magari definirla virata può sembrare eccessivo, soprattutto alla luce del fatto che le affermazioni del premio sul ponte a sud sono state percepite più come uno scivolone che come un segno di attenzione, un dato è innegabile. Il meridione, dopo decenni di invisibilità alternata a politiche improntate sull'assistenzialismo, compare con sempre maggior frequenza nelle agende di ministri e sottosegretari, ma soprattutto dei leader politici, dalla sfida al sud di Matteo Salvini alle frequenti visite del transfugo Pippo Civati, passando per i 5 Stelle, che fin dall'inizio della loro avventura politica hanno fatto della vicinanza ai territori il loro punto di forza, una riscoperta dettata anche e soprattutto da una consapevolezza. Le regioni del sud rappresentano un enorme bacino di voti, sul quale soprattutto le nuove forze politiche e quelle che tentano di risalire la china devono assolutamente investire per uscire dall'impasse. E il ministro Alfano, che è anche leader di area popolare, movimento nato a marzo dalla fusione tra due partiti depotenziati, il nuovo centrodestra e l'Udc, ne è consapevole più di chiunque altro.